Salve a tutti, io sono Ambra della Cantina San Felice e questa sera vi presento il vino Cabernet. Questo vino è un vino da pasto, è molto buono se dovete accompagnarlo con la carne o i primi piatti. Il suo profumo ricorda le bacche di bosco e il suo colore è rosso rubino intenso, è levemente tannico, ha il gusto, è piuttosto corposo. Qui da noi potete trovare varie tipologie di questo vino. Vi aspettiamo in via San Felice Fortunato.